Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quel che chiederete nel nome mio. Come va oggi il tuo livello di autostima? Non ti senti all'altezza degli altri? Beh, allora il testo che abbiamo letto potrà aiutare. Gesù un giorno disse ai suoi discipoli, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. In questo versetto ci sono due parole chiave, io e voi. L'iniziativa di cercarci, di trovarci e del Signore, al di là di come noi siamo. Usando un linguaggio molto social, la richiesta di amicizia parte da Gesù. Poi c'è l'altra parola interessante, voi. Io ho scelto voi. mette l'enfasi su voi. Cioè, Dio poteva scegliere altri, ma ha scelto noi. Poteva scegliere altri che riteniamo più capaci, migliori, ma ha scelto te, ha scelto me. La nostra fragilità umana non ci deve preoccupare tanto da paralizzarci o rifiutarlo. L'importante è fidarsi della sua scelta e se ci lasciamo andare saprà fare cose grande anche tramite noi. Basta vedere cosa ha fatto Gesù con i suoi discepoli che certamente non brillavano sia per cultura che per capacità di comprensione reciproca. Uno lo ha tradito, l'altro lo ha rinnegato, uno era esattore delle tasse, ma le ha voluti lo stesso e alla fine le ha destinate a portare frutto e molti di loro hanno portato frutti duraturi che sono arrivate anche ai nostri giorni. Ogni giorno siamo impegnati con sacrifici, fatica, sofferenze, a produrre qualcosa, a raggiungere degli obiettivi che ci siamo posti sia nel lavoro che nella famiglia. Tutte cose importanti e necessarie, ma destinati comunque ad avere una duratura limitata perché terrene. Quando noi invece abbiamo scelto Gesù veramente nella nostra vita, ogni giorno, in ogni azione, allora tutto quello che porteremo a Lui sarà duratura. E solo così potremo essere portatori agli altri di quella luce che abbiamo visto, ricevuto, accettata e ora condivisa con altri, affinché tutti possiamo dire grazie Signore perché ci hai scelto. Non siete voi che avete scelto mai, ma io ho scelto voi e vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quel che chiederete nel nome mio. Buona giornata.